ciao creatura io sono ecca di splendente benvenuta, bentornata nel regno di cofai e s m a questa sera volevo fare un semplicissimo video di suoni dove cercherò di farti rilassare 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 e poi dopo tutto ho comprato questa penna che non è una penna è la penna la penna triggerosa di tiger quindi mi sembra giusto utilizzarla per questo video è troppo triggerosa non trovi creatura quindi questa sera faremo un po' di suoni rilassanti soltanto per te per te per te soltanto per te per te per te ti auguro ti auguro relax 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 lasciami un mi piace e un commento se questo video ti è piaciuto mi farò altri così semplici ok ti dico che cosa vorrei utilizzare per fare i suoni allora vorrei farti sentire il suono bellissimo che ha questa candela quando viene accesa perché ha uno stoppino molto particolare che è di legno non è i classici non sono i classici stoppini di cotone in bevuto con della cera ma è appunto 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 uno stoppino di legno ed è una candela fatta a mano fra grasa personalizzata che mi è stata regalata tanto 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 non così tanto ma volevo ripetere la parola tanto 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 è una fragranza molto particolare e quando viene accesa proprio nel momento in cui viene accesa ha un suono bellissimo dopo pochi secondi svanisce il suono ma lì per lì è troppo bello poi come hai visto ho la penna la penna la penna di tiger che cerco di utilizzare piano 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 per non creare un suono fastidioso ma deve essere solitanto rilassante triggeroso è anche morbido poi abbiamo queste spugnette che sono la fine del mondo e hanno tutti questi dentini di silicone troppo 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 smr poi ho ancora questa delizia da gustare con te non volevo farci un video solo per questo volevo introdurla qui cioè accompagnarla ad altri suoni ci sono i frizzi pazzi che andremo a mangiare insieme questi colorano anche la lingua io sono decentrata ecco adesso non piace entrare mi pare e poi abbiamo ultimi due oggetti il gelatino squishy che profuma tantissimo ancora e poi ho questo che non è un oggetto ed è il nostro adesivo a cartocciato che ho notato prima ha un suono bellissimo si è fatto lentamente 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 con la sedia che cicola 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 vediamo quanti di questi sono riuscire a fare ah volendo c'è anche il nostro amico squishy panda bene mettiamo sarebbe bello se fossimo in live ti farai scegliere andiamo con la candela dai seguiti che ci è un bellissimo suono secondo me dura troppo poco è molto bello adesso vedrai tutto il fumo che buon profumo però molto molto buono questo profumo che non ti so descrivere perché è un insieme di tanti aromi che sono stati scelti sono stati scelti sono stati scelti se vedi la luce sparata su di me è perché c'è sfondo nero e maglia nera e quindi è un po' così però a me piace sono un fantasma sono un fantasma dell'asmer allora ti faccio sentire un po' di questo spugnetta di silicone che sono troppo rilassati rilassati e dimentri che rosso Grazie a tutti. Mi stavo addormentando da sola, troppo bello, adoro questo suono così, non lo so, è bello, la pezza. Questa penna è anche massaggiante perché ho scoperto che se la indirizzo verso Sam così lei in picchiata arriva con il musetto e si struscia le guanciotte. Ci struscia le guanciotte, ci struscia le guanciotte, ci struscia le guanciotte, ci struscia le guanciotte. E mi piace tanto queste palline, si vede che sono... Non so, vabbè, lei piace tutto, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, si. Quindi, oltre ad essere una penna, ho anche un suono triccheroso e ci puoi anche massaggiare le guanciotte del tocchetto. Le guanciotte del tocchetto, le guanciotte del tocchetto, le guanciotte del tocchetto. Ok, con moderazione, con moderazione, si scartoggia. Allora, ti racconto questa cosa. No, praticamente, quando Sam sente un suono simile a questo, che può essere un pacchetto di patatine che viene aperto o qualsiasi altra confezione di cibo. Ovviamente, anche se a volte, anche se non stai aprendo qualcosa di cibo, lei pensa che lo sia. Però questo che senta, così, arrivano. Allora, allora io mi sono inventata che immagino che lei nella sua mente ci sia, si scartoggia. Lei pensa che sia, si scartoggia. E un'altra volta, invece, è successo che ho collegato questa parola a lei. Perché durante Pasqua, a Pasqua avevo regalato un uovo a mio padre, quindi quello del Lidl. e la carta lui aveva aperto l'uovo e l'aveva appoggiata su una poltrona. Sam, non so perché, gli piacesse forse il colore, o non lo so, si è posizionato sopra e non voleva mai andarsene da quella carta. Forse perché era profumata di cioccolato, non lo so. E che cosa faceva durante il film? Lei stava ferma e buona e dormiva, ma durante proprio la spiegazione, non so, del film, o quando c'erano i dialoghi più importanti, o durante la fine dove ti spiegavano tutto, lei scartoggiava, si muoveva sopra questa carta e faceva un suono così, ma non così delicato, proprio non si capiva niente. E quindi io dicevo, ah, si scartoggia. Adesso, quando mio papà si mangia le patatine, deve sempre aprirle durante delle scene uguali di film, ma allora gli dico, ah, si scartoggia, gli dico, adesso qualsiasi momento si faccia un rumore del genere, io dico sempre, si scartoggia, o mi fa ridere, lo so che non fa ridere a nessuno, solo a me e a Sam, perché ho deciso io, però si scartoggia, infatti si scartoggia adesso. Lo so, non si scartoggia, no, non si scartoggia, allora no, niente, questo, lo facciamo alla fine, lo scartoggiamento. Lo so, lo so che non è l'originale gelatino, ma è carino anche questo, una calamita, e l'ho presa tanto, tanto tempo fa su Aliexpress. Non si poteva scegliere il colore e la casualità mi ha fatto arrivare proprio quel verde. quindi, coincidenza, io non credo. E beh, ho una calamita, infatti questo sta nel suo mio frigo. nonostante abbia da molto tempo, questa calamita è ancora molto profumata, il profuma di vaniglia. poi, c'era anche questo, squishy, bandina, bandino, bandina è la macchina, bandino fatto da me. e sto preparando, piccolo spoiler, sto preparando degli altri squishy da unboxare con te. E la serie nuova ti piacerà sicuramente. Non è inventata come questa, è tratta proprio da qualcosa che già esiste. e per quello so che ti piacerà, però non dico altro, perché non voglio rovinarti la sorpresa, anche se in realtà la sorpresa verrà rovinata nel titolo e nella copertina. però, attendiamo ancora un po', un po' di suspense, ancora un po', ancora un po', ancora un po' di suspense. Ancora un po' di suspense e si, si scartoggia finalmente. Mi sa che i futuri video ASMR dove mangerò, potremmo dire che si scartoggia. Adesso tu capirai, creatura, perché lo dirò, i miei capelli sembrano pettinati coi petardi, ma in realtà me li sono pettinati, ma non importa. Allora, andiamo ad assaggiare, a scartaggiare questi frizzi pazzi. Non mi ricordo che gusto erano. Sono anche i papo al gamba. Che coloro è una lingua? Ah, la fragola suono. Gusto fragola. No, ho letto. L'altra volta. Avevo letto. Non mi ricordo. C'è un cane fuori che appaia, giustamente. E dopo le campane, i vicini sotto la mia finestra che urlano, mancava i cani, giustamente. Ah, la caldaia. Non dimentichiamo la caldaia. Spero che comunque questo video ti sia piaciuto, ti abbia fatto rilassare. Se è così, fammelo sapere. Mi raccomando, nei commenti così farò altri così semplici, senza troppe pretese, ma efficaci. E se vuoi solo i suoni e niente whispering, fammelo sapere. Ma non potrei dire che si scartoggia. Fraggola è il classico profumo di questi frizzi pazzi. Frizi pazzi. Frizi pazzi. Come lo dico io, non lo dice nessuno. Frizi pazzi. Frizi pazzi. Frizi pazzi. Perché non è zeta, è frizzi pazzi. Frizi pazzi. Frizi pazzi. È normale. Quindi io non capisco come possano colorare la lingua. Ma comunque sono... Non so, sono talmente bianchi che non si vedono. Vedi? Sono tutti bianchi. Stanno già spriccicando sul mio mano. Si vede che... Forse sono sudata. No. Sì. No. 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 il nostro corso il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Buon appetito! un po' di un po' di una mille ma un po' si ha colorato la lingua la gomma è grande, non la gomma è blu, vediamo, si pochissimo, sorrino, verde acqua io non sento gusto di fragola, onestamente, non cambia molto il gusto tra quelle normali neanche di fragola, forse è una fragola molto 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 chimica vediamo se riesco a fare una bolla un pochino si, ed è abbastanza grande da riuscire a fare una bolla allora si, per me è approvata, non era un video assaggi, si scherzoggiava e basta, ok? allora io spero che questo video ti abbia fatto rilassare e ti auguro, ti auguro buonanotte, buon relax ciao creatura